Si aggrava la posizione dei due fratelli imprenditori napoletani Antonio Salvatore Righi, di 50 e 55 anni. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare a carico dei due fratelli nell'ambito dell'indagine Margarita, che già nel 2014 portò a 21 arresti ed al sequestro di locali nel centro storico. Le nuove indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di dimostrare nuove ipotesi di reato, associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di beni e riciclaggio. I due fratelli napoletani, da anni nel settore della ristorazione, dalla piccola pizzeria del padre a Napoli, negli anni 90 si erano poi trasferiti a Roma ed in poco tempo avevano messo su 80 aziende tra bar, pizzerie e gelaterie, tutte sequestrate nel 2014 e con un volume d'affari sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. L'intero impero economico dei fratelli Righi era gestito con modalità illecite, le pizzerie servivano a riciclare stabilmente denaro per conto della camorra napoletana, in particolare per il clan Contini, detto non a caso, o romano. Ma le indagini hanno rivelato anche legami dei fratelli Righi con il gruppo camorristico dei Mazzarella e con il clan legato ad Amato Pagano, i cosiddetti scissionisti di Secondigliano.